Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip in seguito all'ennesima rottura. I due non hanno ancora ufficializzato, ma neppure smentito, la separazione ma le recenti foto della subretta argentina insieme ad un altro uomo, l'imprenditore Elio Lorenzoni, parlano chiaro. Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi del nuovo allontanamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due erano tornati insieme a dicembre 2021, dopo l'intensa quanto breve storia d'amore della showgirl con Antonino Spinalbese. La coppia si è conosciuta nel 2012 ad amici ed è convolata a nozze l'anno successivo. Belen e Stefano hanno un figlio, Santiago, di 10 anni. La nuova relazione della showgirl, di cui si parlava già da diversi giorni, uscirebbe allo scoperto solo grazie alle foto pubblicate sul settimanale e che Belen Rodriguez aveva rimosso la fede dal suo dito già da diverse settimane. Indizio che avvalorava le indiscrezioni sulla nuova separazione da Stefano De Martino. Recentemente aveva anche eliminato una delle ultime foto condivise su Instagram con l'ex marito, padre del primo figlio Santiago. L'ex conduttrice delle Iene ha portato con sé l'imprenditore bresciano alla festa di compleanno del cognato, Ignazio Moser. Lì i due sono stati paparazzati dai fotografi in atteggiamenti intimi. La rivista parla di un legame già solido tra i due mentre mostra alcune immagini mentre si baciano e si abbracciano.